Ciao, sono Andrea e sono qui per invitarti al mio corso di cittarra elettrica ed acustica. Insieme studieremo tutti gli stili musicali, come pop, rock, l'hard rock, il metal, il jazz, il blues e il funk, la chitarra acustica e il fingerstyle, partendo dalla tradizione fino alle tecniche più moderne. Il corso è rivolto a chi si approccia per la prima volta allo strumento, oppure dei cantanti che vogliono accompagnarsi con la chitarra o chi invece vuole approfondire un linguaggio e vuole per esempio intraprendere un percorso professionale. Impariamo a suonare divertendoci, iniziando a studiare i brani che ti piacciono e poi magari qualcosa che ti posso proporre io che non avresti mai preso in considerazione e che sono sicuro che potrebbero darti qualcosa di speciale. Ti aspetto, ciao!